Musica Sequestrati in tutta Italia 1200 spazi pubblicitari, 11 indagati, anche tre catanzaresi. Nas nelle menze ospedaliere a Cosenza e a Crotone, emerse criticità. Acqua, sottoscritto l'accordo tra il comune di Reggio Calabria e la Sorical. Il famoso zibibbo dell'azienda Vitivinicola Cantina e Benvenuto di Francavilla Angitola sulla rivista inglese The Canter. Salve e ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. A Catanzaro eseguite sei misure cautelari personali e sequestrate in 1200 spazi pubblicitari. 11 gli indagati per bancarotta fraudolenta. 1200 spazi pubblicitari dislocati tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna del valore di oltre 800.000 euro sono stati sequestrati dal nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro ad un imprenditore ipotizzando il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione a seguito del fallimento nel 2018 di una società da prima con sede a Milano e dal 2015 posta in liquidazione e trasferita presso lo studio di un professionista in provincia di Catanzaro. L'uomo è stato posto ai domiciliari con il divieto di esercitare attività di impresa per un anno. Analoga misura interdittiva è stata emessa nei confronti di altri 5 indagati, che in tutto sono 11. Secondo gli inquirenti queste persone si sarebbero rese responsabili di un preciso disegno criminoso finalizzato alla spogliazione del patrimonio della società fallita attraverso apparenti cessioni di beni durante la fase liquidatoria e pre-liquidatoria e solo in parte seguita da un adeguato corrispettivo, a favore di tre soggetti giuridici strettamente collegati fra loro, operanti nel settore commerciale e della pubblicità e riconducibili agli stessi assetti proprietari. Tutto ciò procurando un debito nei confronti dei creditori, prevalentemente verso l'erario, pari a circa 8 milioni e mezzo di euro. Continuano i controlli dei NAS a seguito delle direttive del Comando Carabinieri Tutela Salute ed incentrate sull'erogazione dei servizi di refezione presso le menze ospedaliere, questa volta ad essere poste sotto la lente di ingrandimento dei militari dell'arma diverse strutture delle province di Crotone e Cosenza. Continuano i controlli dei NAS a seguito delle direttive del Comando Carabinieri Tutela Salute e incentrate sull'erogazione dei servizi di refezione presso le menze ospedaliere, questa volta ad essere poste sotto la lente di ingrandimento dei militari dell'arma diverse strutture delle province di Cosenza e di Crotone. In particolare sono state eseguite 17 ispezioni con controllo sia dei punti cottura all'interno di strutture ospedaliere sanitarie pubbliche e private sia delle sedi delle aziende di catering che forniscono i pazzi confezionati. Gli accertamenti integrati, anche attraverso l'esecuzione di tamponi per la ricerca di contaminanti sulle aree a maggiore rischio, eseguiti d'intesa col personale del Dipartimento di Prevenzione delle ASP, hanno evidenziato diverse criticità dovute a carenza igienico-sanitaria, quali la presenza di eccessiva umidità sulle pareti, infiltrazioni d'acqua dai soffitti e carenze strutturali di un locale attrezzato per il riscaldamento degli alimenti, con conseguente inibizione all'utilizzo. Le regolarità riscontrate sono state segnalate all'autorità sanitaria provinciale per i provvedimenti di rispettiva competenza. Un normale controllo ad una piccola utilitaria, una Fiat Panda, nei pressi dell'area di servizio Tarsia Est, sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Il giovane alla guida troppo nervoso, però, ha insospettito i militari, che hanno deciso di perquisire sia l'uomo che l'auto, anche con l'aiuto di un'unità cinofila, arrivando a scoprire un doppio fondo ricavato all'interno dello sportello posteriore destro, dove erano stati nascosti quattro panetti avvolti da nastro adesivo trasparente, messi sotto vuoto e contenente quasi 5 kg di cocaina. La droga, che è stata ovviamente sequestrata, si è messa sulle piazze di spaccio, avrebbe fruttato oltre mezzo milione di euro. Per il conducente del veicolo, un 35enne, sono scattate le manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed è stato poi associato presso la casa circondariale locale. Si è concluso in secondo grado il processo Malasanitas, nato da un'inchiesta della Procura di Reggio Calabria e condotta dalla Guardia di Finanza su ginecologi, anestesisti e ostetriche dell'ospedale Bianchi Melacrino Morello di Reggio. Il processo riguardava diversi episodi di presunta malasanità. Scandalo nella sanità reggina. Il processo Malasanitas, nato dall'operazione della Guardia di Finanza, ha svelato il sistema di copertura degli errori medici commessi nei reparti di ginecologia, ostetricia, neonatologia e anestesia degli ospedali riuniti in Reggio Calabria, falsificando con il bianchetto le cartelle cliniche dei pazienti. L'iter processuale si è concluso in appello. La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello del PM assolvendo Daniela Manunzio, Giuseppina Strati e Alessandro Tripodi perché il fatto non costituisce reato. Inoltre ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Maria Concetta Maio, Antonella Musella, Filippo Luigi Sacca, Massimo Sorace e Pasquale Vadalà per intervenuta prescrizione. Rideterminata la pena nei confronti di Alessandro Tripoli in due anni e quattro mesi di reclusione e di Pasquale Vadalà in tre anni di reclusione. Confermata l'interdizione dei pubblici uffici per cinque anni nei confronti di Vadalà. L'unica condanna confermata a due anni e tre mesi di reclusione è quella dell'anestesista Luigi Grasso. Il tradizionale rito dei vattienti a Nocera Terinese nel Catanzarese si farà, ma con nuove regole. Dopo un iniziale divieto della Commissione straordinaria che regge il Comune e alla luce di incontri che ha visto partecipare istituzioni, autorità sanitarie, associazioni ed esperti, si è deciso di ripristinare l'appuntamento delle festività pasquali, sospeso negli anni scorsi anche per via della pandemia. Diverse, d'altro canto, le proteste e le mobilitazioni contro l'iniziale divieto, anche attraverso una raccolta di firme per una petizione popolare. E' stato sottoscritto alla cittadella Catanzaro un accordo tra Comune di Reggio Calabria e la Società Risorse Idriche Calabresi per il subventro di Sorical nella gestione del servizio idrico integrato. Ci sono da recuperare enormi ritardi rispetto a dettami legislativi nazionali e soprattutto c'è tanto da lavorare per ridurre i disservizi qualitativi e quantitativi che molti cittadini patiscono da anni. Sulla governance dell'acqua però si sta anche consumando uno scontro istituzionale che proprio da oggi si materializzerà nelle aule di giustizia amministrativa. Ieri il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, durante l'incontro in cui sono stati illustrati i termini dell'accordo tra Sorical e Comune di Reggio, ha ostentato tranquillità dicendosi per nulla preoccupato dai ricorsi all'attare presentati da decine di enti locali contro i modi e i tempi stabiliti da Arical per il subentro di Sorical nella gestione del segmento del servizio idrico che finora era appannaggio dei comuni. La parte della Regione più reticente ad assecondare questa riforma, ha detto il presidente Occhiuto, mi pare sia quella del Crotonese, ma lì c'è un consorzio che ha accumulato molti debiti. In realtà gli enti che fanno parte al consorzio Congesi non sono gli unici ad aver impugnato gli atti di Arical. Lo hanno fatto tra gli altri anche due comuni nella Catanzarese, Pianopoli e Cortale. E proprio per il ricorso e la richiesta di sospensiva da parte di quest'ultimo ente, rappresentato dall'avvocato Pino Pitaro, si terrà proprio oggi in udienza davanti al TAR. Si tratta dunque del primo round istituzionale davanti al Tribunale amministrativo. A breve ne seguiranno ovviamente gli altri e l'esito potrà evidentemente incidere nel percorso della riforma voluta dai vertici della cittadella. Dopo l'incontro e la sigla dell'accordo abbiamo ascoltato il sindaco facente funzioni del comune di Reggio Calabria, Brunetti. Beh, se faceva riferimento al 28 dicembre all'Assemblea dei Sindaci, in quell'occasione sono state avanzate alcune perplessità sul percorso sia di Arical sia di Sorical. Devo dire che subito dopo il Presidente ha preso il telefono, ha fatto una telefonata a me e mi ha invitato a venire qui in cittadella per chiarire alcuni aspetti che erano stati sollevati dal comune di Reggio Calabria. È stata l'occasione giusta e la prima occasione per poi vederne tante altre di confronto leale, schietto, dove ci siamo detti alcune cose. Alcune cose sono state chiarite, altre sono state posticipate in comune accordo. E da lì è nata l'intenzione di voler fare qualcosa assieme per anticipare il percorso che ci porterà domani ad avere l'Arical con la componente dei 40 sindaci nell'Assemblea e di sostituzione di Sorical come gestore del servizio idrico integrato. Quindi c'è stato semplicemente un confronto, ripeto, schietto e leale col Presidente, che ci ha permesso di arrivare oggi alla firma di questo protocollo. Cambiamo argomento. La comunità parrocchiale della Chiesa della Sacra Famiglia di Vibo Valencia ha voluto ricordare il suo primo e storico parroco ad un anno dalla sua scomparsa. Allo scoccare del primo anno dalla sua scomparsa, la sua comunità, i fedeli ai quali si è sempre rivolto con paternalistico amore, hanno voluto ricordare Don Angelo Sabatino, il primo parroco della Sacra Famiglia, a cui si deve alla realizzazione della stessa chiesa e della Casa Canonica, in cui è ospitato anche il centro multimediale dell'Aldiocesi e la Scuola di Scienze Religiose. A tracciare un breve profilo del sacerdote, Monsignor Filippo Ramondino, che ha ricordato la sua intensa attività di missionario, che ha raggiunto il suo culmine proprio con l'incarico di parroco di questa nuova comunità, che tramite lui, attraverso lui, andava formandosi. È stata la giusta occasione per ricordare il suo impegno costante e coinvolgente, capace di dare speranze e riscatto ad un quartiere fino a quel momento considerato ghetto. Attraverso la sua missione, la Chiesa ha efficacemente contribuito alla crescita socioculturale di quelle famiglie che nel frattempo diventavano sempre più numerose con lo sviluppo urbanistico della zona. La sua missione è stata interamente dedicata alla sua comunità in questo quartiere, di cui è stato l'indiscusso protagonista dello sviluppo e della trasformazione sociale, affrontando e superando avversità e problematica di qualsiasi genere, portando al compimento i suoi progetti. E la comunità ha ricambiato questo regame, anche affettivo, attraverso la realizzazione di un basso rilievo opera dell'artista vibonese Antonio Lagamba. Nel corso di una cerimonia sobria ma intensa, presenti tanti fedeli, alcuni sacerdoti e familiari del compianto parroco, il Vescovo della Diocesi, Monsignor Attinio Nostro, insieme al Sindaco Maria Limardo, ha svelato l'opera che ora campeggia proprio l'ingresso della Scuola di Scienze Religiose che Don Angelo Sabatino volle qui realizzare. Negli auguri pasquali, l'Arcivescovo di Crotone e Santa Severina, Angelo Panzetta, invita la comunità alla speranza e al valore dell'accoglienza. Per formulare il messaggio pasquale, più ampiamente gli auguri della Pasqua. Questa mattina nella mia preghiera pensavo quale fosse il tratto specifico della Pasqua di quest'anno. Senta, durante il suo messaggio pasquale all'Arcivioce si è invitato i fedeli, le persone, i cittadini alla speranza, sottolineando che la speranza è un diritto. Sì, la speranza è un diritto e una responsabilità. È un diritto che ci viene donata dall'alto, dalla risurrezione di Gesù. Ed è proprio perché donataci dall'alto è una speranza piena di vita, come dice la parola di Dio. Però abbiamo anche la responsabilità poi di tradurre la speranza in ostile di vita speranziale, che significa profezia, che significa progettazione, che significa sporcarsi le mani per rendere il mondo più umano. E per questa Pasqua non possiamo non pensare ai fatti della tragedia di Steccato di Cutro. Secondo lei un domani che lezione potrà fornire tutto ciò che è successo? Io penso che la lezione dei fatti di Cutro emergerà chiaramente a distanza, perché i fatti per essere letti nella prospettiva del discernimento hanno bisogno di un minimo anche di distanza. Però non c'è dubbio che già chiaramente si individua il fatto che quello che a Cutro è successo ci insegna a capire che nell'accoglienza o nella non accoglienza delle persone ci giochiamo tutto, ci giochiamo la nostra credibilità di credenti, ci giochiamo la nostra credibilità di essere uomini e donne, è l'umano che è in gioco in questi fatti. Cambiamo decisamente argomento. De Canter è la rivista inglese nota come la migliore rivista di vino al mondo. Ed è un mensile letto in più di 90 paesi. È il riferimento per tutti quelli che si interessano di vino, dal dilettante all'appassionato. Nel numero del mese di aprile viene apprezzato come uno dei migliori bianchi d'Italia il famoso Zibibbo dell'azienda Viti Vinicola Cantina e Benvenuto di Franca Villangitola. De Canter cos'è e cosa racconta? De Canter è la rivista internazionale, parla dei vini di tutto il mondo, dei territori anche meno conosciuti. Ovviamente questa è De Canter e abbiamo quest'anno la rivista di aprile in cui indichiamo i vini migliori d'Italia in cui i nostri giornalisti cercano di rappresentare dei territori anche meno conosciuti, come lo Zibibbo della Calabria. Essere citati dal De Canter e inseriti come il miglior bianco calabrese tra i 20 migliori bianchi d'Italia è un'enorme soddisfazione. Abbiamo creduto sin dall'inizio nello Zibibbo, nel suo recupero e i risultati di anno in anno arrivano. Dal 2020 a oggi è un crescendo in quello che cerchiamo appunto di essere il racconto di un territorio, di una Calabria, sempre più apprezzata. Al Vinitaly quali vini avete portato e qual è il valore che vi portate nelle cose che fate? Abbiamo portato in degustazione tutte le nuove annate, più qualche novità, uscirà un metodo ancestrale di solo Zibibbo, un rosso riserva, un Zibibbo che ha fatto un affinamento in legno quindi c'è questa continua ricerca ed è bello il confronto anche con la platea internazionale perché apprezzano queste tipicità nonché le loro rivisitazioni, questa voglia di ricercare e innovare quella che è una tradizione rispettandola ma creando anche quello che è un'apertura, un gusto più esterno ai nostri confini. Al Vinitaly di Verona i vini calabresi si stanno facendo apprezzare in tutta Italia. Presente anche il gruppo Caffo 1915 che presenta le sue ultime novità per il 2023 che puntano a consolidare il suo ruolo di leader nel settore degli amari. Abbiamo intervistato prima, abbiamo girato un po' tutte le nostre realtà calabrese? Sì, sono qui nello stand di Caffo che rappresenta un'eccellenza calabrese. Noi siamo orgogliosi che ci siano in Calabria imprenditori che abbiano saputo dimostrare come si possa fare imprese in Calabria e come si possono costruire realtà imprenditoriali di interesse nazionale. Per cui il mio è semplicemente un riconoscimento a chi col proprio lavoro ha dimostrato che anche la Calabria può offrire opportunità straordinarie. Stiamo alla prima giornata e è andata alla grande, una grande soddisfazione per la Calabria. Beh io penso di sì perché la nostra regione è una regione che si sta facciando in questi anni in questo settore. Non è una regione dai grandi numeri però è una regione dalla grande qualità. Adesso siamo stati a salutare l'azienda Caffo che è il leader nazionale nel settore degli amari e che è il nostro orgoglio perché attraverso la sua azione poi ci sono tantissimi giovani che si stanno impegnando in questo settore e stanno nascendo tantissime aziende. Beh naturalmente non sono al suo livello ma si stanno cimentando con successo. Poi c'è il settore vitivinicolo, ci sono 80 aziende che hanno partecipato con grande entusiasmo in questi giorni e credo che stiamo iniziando a dimostrare come la straordinaria biodiversità della nostra regione con la varietà di vitigni autoctoni sia un elemento sul quale puntare. L'ambizione deve essere quella della qualità, della qualità delle produzioni e i nostri viticoltori lo stanno facendo perché in questi anni con grande umiltà si sono affidati a enologi di rilevo nazionale e internazionale e hanno migliorato la qualità dei loro vini. Allora noi dobbiamo sostenere, dobbiamo sostenere fortemente perché questi sforzi vanno sostenuti e noi vogliamo che questa Calabria abbia il ruolo che le spetta, abbia la postazione che le spetta e noi di questa terra dobbiamo essere orgogliosi. E termina qui la nostra informazione. Grazie per aver seguito il nostro Tg. Ora vi lascio con le notizie dall'Italia e dal mondo. Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare non risolta. Attualmente sarebbe sottoposto a trattamento antibiotico e la situazione sarebbe stazionaria. L'86enne ex presidente del Consiglio era stato dimesso dallo stesso ospedale il 30 marzo scorso dopo alcuni giorni di ricovero per controlli di routine. Giorgio Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il premier spagnolo Pedro Sanchez. Entrambi i leader hanno ribadito l'importanza delle relazioni e della collaborazione tra i due paesi anche in vista della presidenza spagnola del Consiglio europeo. C'è la necessità che l'Europa dia risposte efficaci e immediate, ha detto Giorgio Meloni. Il premier spagnolo ha sottolineato che uno degli obiettivi condivisi tra Spagna e Italia del semestre di presidenza spagnola dell'UE è il patto di immigrazione e asilo. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato a Varsavia il presidente polacco Duda. Si tratta della prima visita ufficiale del presidente ucraino in questo paese che rappresenta uno dei principali alleati di Kiev sulla dorsale est del fronte NATO. Varsavia ha appena consegnato a Kiev i primi caccia MiG 29 promessi e 14 carri armati Leopard 2. Non solo la Polonia, paese membro dell'Unione Europea e della NATO confinante con l'Ucraina, spesso funge da importante piattaforma logistica per il transito verso Kiev di aiuti militari e umanitari occidentali. Intanto, all'ambasciatrice americana a Mosca, Vladimir Putin ha detto che le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono in crisi profonda, dopo che Washington ha sostenuto il colpo di Stato a Kiev nel 2014 che è all'origine dell'attuale crisi. La pace in Ucraina e il delicato dossier dei rapporti commerciali tra Unione Europea e Cina sono questi due temi principali che il presidente francese Macron e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen metteranno sul piatto durante la loro visita cinese da oggi, al 7 aprile. L'intenzione di Ursula von der Leyen e Macron è di intavolare con il presidente cinese, Xi Jinping, un confronto franco sulle questioni più spinose per aprire una nuova pagina nelle relazioni tra UE e Cina che presenti meno rischi per i partner europei. Lo hanno arrestato per poco più di un'ora e non appena è tornato a piede libero in attesa della prossima udienza, Trump è subito rientrato a Mar-a-Lago in Florida per il suo primo comizio da candidato indagato portando sulle spalle 34 capi di imputazione. L'unico crimine che ho commesso è stato difendere l'America da chi la vuole distruggere. La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti, ha detto Trump, che sta affascinando e caricando nuovamente i suoi fan negli Stati Uniti mentre fa inorridire quel 60% di americani che vogliono finisca al più presto sotto processo. La prima udienza preliminare è già stata fissata al 4 dicembre mentre il processo vero e proprio si avrà nel 2024 proprio nel pieno della campagna elettorale. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Meta, la società proprietaria di Facebook e Instagram. Nel mirino dell'autorità, un presunto abuso di dipendenza economica nella negoziazione con la SIAE sulla stipula della licenza d'uso sulle proprie piattaforme social dei diritti musicali. Secondo l'antitrust, la società di Mark Zuckerberg potrebbe avere indebitamente interrotto le trattative. Tramite il suo portavoce, Meta ha dichiarato di essere pronta a collaborare per raggiungere un accordo con la SIAE. Meta ha dichiarato di essere pronta a collaborare